La proposta formalizzata nel corso dell'incontro è stata quella di mantenere le tre province di Teramo, L'Aquila e Chieti, mentre Pescara potrebbe essere inserita tra le cosiddette città metropolitane. Affinché Teramo possa raggiungere gli standard previsti dalla legge di riordino, un minimo di 350.000 abitanti, attualmente ne sono 320.000, è necessario però che i confini della provincia vengano ridisegnati, acquisendo il comune di Penne e quelli dell'area Vestina. La proposta lanciata dal sindaco Maurizio Brucchi ha trovato molti sostenitori tra i politici presenti in platea, anche se ci sono state non poche perplessità sull'idea di Pescara città metropolitana. Questa legge è scritta male, il decreto da cui deriva è scritto malissimo, quindi il caos regna sovrano ed è la normale conclusione di una legge stupida, io la definisco così. C'è però di positivo che in questa riunione che abbiamo convocato oggi, in questa assemblea, viene fuori che oggi non è più il presidente Catarra che difende il Fortino, ma c'è una consapevolezza nei politici terramani di qualunque livello, quindi comunale, provinciale, regionale e anche nazionale, che qualcosa bisogna fare. Un conto è abolire tutte le province, su cui molti si sono detti anche d'accordo, ma altro conto è dire eliminiamone alcune, compresa Teramo, e quindi adesso ci mobilitiamo per questo, va bene, facciamo una proposta condivisa, mi sta bene, tant'è vero che ho visto che qui c'è una sostanziale condivisione della proposta, perché qui non si tratta di fare delle battaglie, delle guerre campanilistiche o delle guerre di steccati, qui bisogna verificare qual è veramente il livello ottimale dei servizi, dove sono i veri costi dell'amministrazione e dare un riordino che sia razionale, non solo io dico alle province, ma anche ai comuni e alla regione, e che porti veramente ad un risparmio, il tanto agognato risparmio. C'è una riunione, un dibattito molto interessante, dove mi sembra che sta uscendo fuori però la linea, diciamo così, di mantenere Teramo provincia. Tre province in Abruzzo e una di queste sarà Teramo. Pescara-Chieti, area metropolitana, ora su questo discorso bisognerà sentire anche i rappresentanti all'interno del caldo di Chieti e Pescara, ovviamente non possiamo decidere noi per loro, però io sono contento che stamattina quasi tutti, direi, hanno espresso questo concetto con mia grande soddisfazione. L'incontro sindaco è fissato per il 28? Il primo riunione del caldo è fissato per il 28, presenteremo, adesso mi sentirò anche con gli altri rappresentanti, presenteremo questa proposta. Mi dispiace che qualcuno che non la pensa così oggi non c'è, non è venuto perché magari avremmo potuto ascoltare anche la bontà della proposta del sindaco Mastro Mauro, che sicuramente sarà fonda su valori importanti. Oggi, in questo importantissimo incontro, una posizione sua molto personale? No, credo che sia molto condivisa dall'opinione pubblica, credo anche da qualche amministratore. Io penso che si debba incoraggiare lo sforzo del governo di tagliare la spesa pubblica, credo che il problema della provincia non sia un grande problema, ma credo che si possa discutere intelligentemente, ma senza le ritualità della vecchia politica che vuole solo salvare una casta oramai indifendibile.